Amici di Unibet, una seconda giornata di Roland Garros parzialmente disturbata dalla pioggia, cancellate ancora diversi match e oggi finalmente Giove Pluvio dovrebbe lasciarci stare, consentirci di vivere un'intera giornata dal Bois de Boulogne senza alcuna interruzione, anche se il programma che vede l'esordio dei due favoriti, cioè Nova Djokovic e Rafael Nadal, non dovrebbe presentare sorprese clamorose perché appunto i due favoriti hanno avversari piuttosto comodi, i match più interessanti oltre a quelli degli italiani sono quelli di queste famose next generation players, cioè la nuova campagna ATP per lanciare quei giovani giocatori, le giovani promesse che in qualche anno dovrebbero sostituire top players attuali, in particolare domani c'è un Borna Cioric contro Taylor Fritz, sicuramente favorito Cioric, giocatore già abituato a giocare ai tornei dello Slam, ma a 3.45 quanto è quotato Taylor Fritz, io francamente un pensarino ce lo farei, se si gioca live diciamo che Cioric diventa ancora più favorito, quanto più il match diventa una battaglia e si allunga alla quinto sette, Cioric che conosce meglio la terra battuta di Fritz, però il giocatore americano è già in grado di creare questa sorpresa. Poi Jon Chung contro Quentin Alice, Chung sicuramente ha una classifica migliore, ma Alice sta crescendo, conosce meglio la terra battuta perché ci è cresciuto in Francia, però come suggerivamo anche ieri questa è una partita che è stata posticipata di una giornata, anche i bookmaker di Unibet lo sanno e quindi danno favorito Alice, a questo punto si può puntare invece di vista che è dato a 2.35 su Chung, che comunque è un giocatore di maggiore esperienza e Alice potrebbe soffrire il fatto di giocare in casa. Qualche giocatore francese si esalta a Roland Garros, qualcuno invece cade trappola della tensione. Per quanto riguarda gli italiani, alcuni sono chiusi come Fabiano con Feliciano Lopez o soprattutto la Knapp contro la Zarenka, qualcuno starà favorito come Camila Giorgi contro Alizé Lim e la Giorgi potrebbe anche essere l'unica giocatrice a rimanere in gara dopo che ieri hanno perso Sarerani e Roberta Vinci perché anche la Schiavone è sfavorita contro la Mladenovic. Dall'altro campo, in campo maschile, soprattutto l'esordio dei nostri due più forti giocatori, quindi Fabio Fognini contro Marcel Granoyers, un match che un Fognini in discrete condizioni ci vince e ci può vincere anche 3-7-0. Ma Granoyers gioca un tennis brutto ma efficace, non sta giocando male, quindi Fognini non deve avere troppi alti e bassi anche se i match 3 su 5 gli consentono di gestire meglio i suoi passaggi a vuoto. E poi un match Seppi-Gulbis. Seppi è sempre perso da Gulbis, questo Gulbis si sta leggermente riprendendo da un periodo di grossa crisi. Seppi adesso è tornato in buona condizione, ha vinto due match a Nizza, ha dimostrato di voler lottare, soprattutto questa situazione, questa capacità potrebbe alla lunga fare la differenza perché se il match inizia a prolungarsi Seppi torna favorito. Comunque, visto che la pioggia domani ci darà, o ci dovrebbe quantomeno dare tregua, sarà e comincerà ad essere grande spettacolo al Bois de Boulogne, a Roland Garros, come dice l'hashtag di Unibet, puoi scommetterci.